Ciao a tutti, è da un po' che non ci vediamo, però sono tornata finalmente e sono tornata con un ospite. Prego! Stefania, ciao! Ciao Lorenzo, come stai? Bene, dai, e te? Tutto bene? Tutto bene. Oggi ho portato questo ospite per questo video perché presenzeremo una fragranza maschile e quindi ovviamente ci vuole un parere... Maschile! Esatto, di una persona esperta in questo campo. Allora, innanzitutto questo è Individual Blue o The Toilette Spray. Vi faccio vedere come si presenta la confezione esterna, vi faccio vedere com'è il profumo. Eccolo qua. Guardate che bello anche proprio la confezione. Allora, chiediamo al nostro... No, innanzitutto volevo dirvi per prima cosa che questo profumo attualmente lo abbiamo in offerta, quindi anziché pagarlo 15 euro a prezzo pieno, lo paghereste solo 11,99 euro. Quindi abbiamo anche una scontistica. In più, se guardate nella descrizione, trovate tutti i miei link per potermi contattare, oppure ordinare direttamente dal mio sito internet, quindi vi spediranno la merce direttamente a casa vostra. Allora, intanto vi posso dire che questo formato è da 100 ml e quindi comunque vi dura anche un bel po' di tempo. Il prezzo ovviamente è bassissimo per quello che potete constatare che comunque sono 100 ml. Poi è buono anche, quindi ci sta. È molto fresco anche. Ce lo vuoi descrivere? Le tue sensazioni? Quello che ti è piaciuto? Ma, guarda, secondo me, io l'ho provato e devo dire che è un profumo, come ti stavo dicendo prima, molto fresco. Da quel senso di disinvoltura, esatto, esatto. Proprio perché quando tu te lo spruzzi addosso, senti proprio queste note di bergamotto e pompelmo che lo rendono proprio fresco. È proprio, sì, un profumo fresco. Direi per primavera e estate, direi. Anzi, ci stiamo anche avvicinando, quindi ci potrebbe stare... Sì, è una stacanza, direi, anche molto frizzante. Poi vi sveleremo anche dei trucchi su come utilizzare il profumo perché ci sono dei punti particolari, soprattutto per l'uomo, che ovviamente sono i più, come dire, i più perfetti. Adatti, diciamo. I più adatti dove posizionare il profumo. Quindi, come dicevi, assolutamente ci sono, come appunto hai potuto constatare utilizzandolo le note di bergamotto e di pompelmo, ma non solo questo, ovviamente. Queste sono le note di testa, quindi le prime note frizzanti che si sentono della fragranza. Poi abbiamo delle note di cuore, che quindi è la parte centrale della nostra fragranza e all'interno di questa fragranza sentirete la lavanda e il sandalo. E inoltre, oltre tutte queste note, si conclude la fragranza con delle note un po' più muschiate. Quindi abbiamo questa parte un po' frezzantina iniziale, ma alla fine diciamo che la fragranza rimane, oltre che frezzante e fresca, come diceva lui, anche abbastanza intensa. Io aggiungerei che come magari sottolinea il nome Individual Blue, Individual nel senso che è proprio fatto, adatto per l'uomo che è indipendente, che si sente indipendente, che lo vuole usare per l'uso quotidiano. Lo consiglio, meno per la mia esperienza personale, lo consiglio vivamente a tutti gli uomini, perché appunto per l'uso quotidiano, perché dà queste note di freschezza che rendono la giornata sprint, frizzante, come stavamo anche dicendo prima. Va bene, allora direi che è il momento di svelare i trucchetti su come posizionare la fragranza, giusto, perché quando soprattutto voi maschietti vi preparate a un'uscita importante, ovviamente bisogna mettere il rumo. Che va bene anche per quello, devo dire. Bisogna mettere il rumo nei punti giusti. Allora, niente di scandaloso, non vi preoccupate. No. Iniziamo, così, vabbè, purtroppo voi da casa non potete sentire la fragranza, però il mio collega potrà sicuramente descrivervi tutte le varie sensazioni. Allora, prima cosa, come si usa? Quindi applicare Individual Blue, che è questa nostra fragranza di Avon, ovviamente. Praticamente dovete, prima sui polsi, mi raccomando una cosa che vi svelo, non sfregate mai le fragranze, perché una volta le fragranze venivano fatte con degli oli, quindi andavano scaldate per poter emanare il loro profumo. Attualmente non sono più fatte con gli oli essenziali, o raramente, o comunque poco. Quindi non vanno assolutamente scaldate, altrimenti si rompono le molecole, non succede niente, però durano molto di meno, e quindi è meglio evitare di sfregare la fragranza. Quindi, sul polso, ecco, quindi magari appoggiatela, se volete portarla su entrambi i polsi, sentite già che... Mamma mia! Che profumino! Che buono! I gomiti, che forse tutti non sanno, ma sui gomiti l'ho messa. Questa cosa la prendo anch'io adesso, perché non la sapevo, sui gomiti la prima volta che la sento. Proviamo. Sì, già così si sente, senti anche te. Poi tu cosa dici? Sì, sì, si sente già a distanza, senza neanche avvicinarsi. Poi, beh, il classico forse il collo. Il collo. cosa dici? Sì, sì, sì. Si sente, si sente tantissimo. E poi, quale altro punto consiglieresti ai nostri amici a casa? Allora, dicono anche dietro le orecchie. Direi che è una soluzione... mi raccomando, mettete sempre una mano per non... Sì, per evitare magari che vada negli occhi che poi brucia. Sate attenti, esatto. No, sì, sì, si sente. Qua, secondo me, ovviamente, essendo fatto per un'uscita, lo deve sentire la persona con la quale siete, ok? Però, già così, si sente, parecchio. Altri punti particolari che ci puoi consigliare? Dicono il petto anche. Il petto, poi, se è vento... Alla base qua del collo, magari un po' più sotto, eh? Dicono che si possa, si possa mettere anche lì. Perfetto, quindi, ricapitolando, la nostra fragranza individual blu si utilizza in questo modo. Metterla sui polsi senza sfregare, ma solamente appoggiando i polsi, sui gomiti, dietro le orecchie, sul collo e sul petto. Questi sono i nostri consigli per le vostre uscite galanti e anche per semplicemente delle uscite informali o per andare al lavoro tutti i giorni. Vi ringraziamo per aver seguito questo video. Come sapete, troverete tutti i miei contatti nella descrizione e in più, ovviamente, c'è la possibilità di acquistare direttamente tramite il My Avon Store di Stefania Danubio che troverete anche lì e il link per qualsiasi cosa potete contattarmi o acquistare direttamente tramite lo store e la merce vi arriverà gratuitamente a casa vostra. Grazie per averci seguito. Alla prossima! Ciao a tutti! Ciao ciao!